Le utility stanno affrontando nuovi business, nuove strategie. Voi come ERA state guardando anche voi al mercato digitale, dell'innovazione e delle reti intelligenti. Che ruolo hanno per voi questi nuovi business? Per noi la digitalizzazione è un cambio di paradigma anche nel mondo dei clienti. Sicuramente il cliente è un cliente diverso, un cliente più attento che vuole comunicare con l'azienda in maniera più rapida utilizzando numerosi canali, non solo quelli tradizionali. Questa consapevolezza, questo nuovo approccio del cliente è stata l'occasione per cambiare il sistema di relazione col cliente passando da una CRM tradizionale a un sistema che valorizza la customer spinness del cliente. Un modo per vedere l'azienda dall'esterno, per vedere i processi aziendali, i giorni del cliente all'interno dell'azienda che ci ha fatto scoprire alcune aree di miglioramento anche in funzione delle tipologie dei clienti che sono diverse, non tutti vogliono la stessa esperienza. Come riassumere queste aree? Sicuramente in un termine di velocità e rapidità degli interventi, in una logica di proattività, proattività vuol dire anticipare le problematiche che possono essere generate da nostre attività verso i clienti in termini di nuovi canali di comunicazione, quindi l'abilitazione tecnologica ma anche in termini di linguaggio che non può essere il linguaggio di prima. Non è solo la digitalizzazione, nuovo modo di rapportarsi con il cliente, e anche la possibilità di dare più servizi, servizi che vanno nella logica del controllo dei consumi e dell'efficienza energetica resi possibili a seguito della disponibilità di device e di informazioni che rendono finalmente possibile la gestione dei consumi anche per le piccole famiglie. Per questo sviluppo è anche fondamentale che il consumatore abbia una certa consapevolezza che capisca cosa sta succedendo. Voi trovate il consumatore pronto ad accogliere queste novità o ha paura magari che questa innovazione poi si ricada a livello di costi in bolletta? Ma il tema è corretto. Noi serviamo oltre 2 milioni di clienti. È chiaro che questi clienti hanno una propensione, uno sviluppo al digitale diverso. Andiamo dal nativo digitale a chi non è nativo ma è un evoluto digitale, ma anche a chi non ha questa propensione. È chiaro quindi che sia il tema della relazione con il cliente ma anche di sviluppo dei servizi è un tema che viene gradatamente sviluppato su una parte dei clienti che sta sempre più crescendo. Sul tema dei servizi aggiuntivi, quindi il controllo dei consumi e dell'attività di gestione dei consumi è chiaro che sono servizi che in questo momento riscuotono grandi interessi ma si stanno avvicinando al mercato e quindi sono nella fase prototipale innovativa del mercato. Quindi è la prima missione sul mercato. Questa crescente competizione vi spaventa e quindi vi potrebbe indurre a fare massa critica con altre utility o camminate tranquillamente con le vostre gambe? La nostra è una storia di squadre, di aziende che sono entrate nel nostro progetto. È una storia che si è unita, quindi quella che è la tradizionale crescita per linee esterne è una crescita importante per linee interne. Noi continuiamo a sviluppare la crescita per linee interne che ci porta ad accrescere normalmente la customer base. Poi sugli altri elementi, quando ci saranno le opportunità, si valuterà.